Amate gli sconti? Questo è il mese giusto! Appassionatevi con le offerte di Mobilia Megastore Pareti attrezzate che vi faranno la corte Camere da letto che vi conquisteranno subito E cucine che non vi tradiranno mai E se scegliete l'arredamento completo C'è un ulteriore sconto che vi renderà ancora più felici E potrete pagare anche senza conto Fino a 5 anni con prima rata a 5 mesi Oppure a tasso zero Dite sì a Mobilia Megastore Perché sposarsi da noi è più facile Vieni a scoprire come